Buonasera e benvenuti anche oggi alla puntata settimanale del punto punto web che questa sera eccezionalmente cade di giovedì. Questa sera avremo come ospiti il cantautore Ture Most che ormai conosciamo bene e che torna per presentarci il suo ultimo lavoro, subito dopo cambieremo argomento, andremo a Giarre, torneremo sulla questione del mercato settimanale del giovedì, lo faremo con il sindaco di Giarre, Angelo Danna e con Pietro Aci, presidente dell'Amba Confesercenti Sicilia orientale. Infine parleremo con Luca Arcidiacono, un promettente regista sceneggiatore che appunto negli ultimi anni si è fatto strada e la sua carriera appunto è in ascesa. Ma prima di iniziare come ogni settimana abbiamo l'appuntamento settimanale con il nostro scomicon di Edoardo Puglisi e questa sera è un simpaticissimo scomicon baby diciamo che si rivolge alla mamma e lei chiede mamma se papà non uscirà di casa questa sera cosa succederà a quel signore chiuso nell'armadio e con questo simpatico scomicon di Edoardo Puglisi che come sempre salutiamo e ringraziamo. Anche questa settimana l'appuntamento dello scomicon diciamo è stato rispettato. Ma adesso ci video colleghiamo con Turemost che è già pronto. Buonasera Turemost. Buonasera, buonasera, ciao Rita, ciao a tutti. Ciao, siamo felici di riaverti ospite al punto punto web con quello che è il tuo ultimo lavoro appunto. Lo conosciamo tutti ma lo presento brevemente. Turemost che poi è il nome d'arte appunto di Salvo Mostaccio è un cantautore siciliano e lo conosciamo perché nel 2018 inizia appunto il suo viaggio musicale con i singoli La Luna sul Canneto e Tequila e Bavalaggi che poi porteranno un anno dopo alla pubblicazione dell'album d'esordio nostalgia che è caratterizzato dal bilinguismo italiano siciliano e da sonorità che partono dall'indiretto per sfociare in un'atmosfera cantautorale ricca di racconti e leggende che sono poi leggende che parlano di storie locali, di storie anche della nostra tradizione che si iniziano poi ai ricordi di infanzia. Nel 2020 esce Libra, un album composto da una parte indie e una diciamo alternative hip hop che contiene il singolo Camorria. Terzo progetto quindi non ti sei fermato e questo terzo progetto è un progetto particolare che prende il nome di Soft Drink. Allora diciamo intanto eh cosa significa e perché questo nome e in cosa consiste diciamo il progetto? Sì allora diciamo che comunque Soft Drink appunto è il nome del progetto proprio per intero no? Globalmente eh per Soft Drink si intende questo nuovo eh stavolta diciamo ecco anziché parlare d'album o di disco ho voluto parlare di progetto perché proprio dal punto di vista artistico quindi non soltanto musicale ma proprio tutto il concept artistico che c'è dietro è proposto in tre in tre gusti in tre diciamo EP che usciranno periodicamente ognuno contiene una traccia ognuno porta con sé un gusto un mood un sottogenere diverso un colore dal punto di vista proprio musicale visto che comunque molte volte i miei album sono stati caratterizzati da diverse sonorità diversi sottogeneri trattati questa volta ho preferito un po' questa suddivisione proprio per mettere magari l'ascoltatore a proprio agio per potersi godere la la singola uscita il singolo mood appunto questo 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 gusto singolarmente diciamo no invece di di proporre tutto il disco tutto quanto in una volta come ho fatto in passato in modo tale anche da esserci spazio per il momento diciamo un po' più come quello che ho proposto adesso la prima uscita appunto è pop cola è quella che è uscita appunto ieri su tutti gli stores digitali anche su youtube è presente mentre questo diciamo porta con sé delle sonorità un po' più elettroniche no più pop più che possono essere gustate con in macchina con gli amici con il finestrino abbassato diciamo la classica canzone le classiche canzoni un po' più 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 chill diciamo ecco che però non rinunciano alla alla dose di energia musicala musicale e nello stesso tempo non rinunciano neanche a un aspetto diciamo così più profondo ecco perché non è non ha un livello di lettura esclusivamente esclusivamente diciamo da esclusivamente pop ecco quindi da ascolto e basta ma va assaporato tutto quello che ci sta dietro anche dal punto di vista del testo ecco non non è non si presta a un ascolto da radio semplicemente ecco cioè sì ma non solo ci sono dei livelli di lettura magari sempre via via più più profondo questo 3 diciamo il numero perfetto ha un significato in particolare oppure no eh sì considerando il fatto che è la mia terza uscita e quindi questo dividere in tre eh p ognuno da tre brani ognuno composto da tre brani in ogni ep ci sarà un un ospite speciale a sorpresa quindi diciamo che sì sicuramente il numero tre ha caratterizzato molto questo questa progettualità ha caratterizzato molto questo concept eh vuoi anche per tanti tanti motivi diciamo che per esempio la nostra Sicilia è costituita delle tre punte per cui eh un po' diciamo con questa numerologia poi a me piace sempre giocare con i numeri ci ho voluto giocare anche questa volta e quindi sì un progetto quello che di fatto è il mio terzo progetto e quindi gioca molto sul sul numero tre andiamo a salutare intanto anche eh Gennaro Miano che ci scrive eh ciao Rita buona serata a tutti gli ospiti complimenti a Ture Most e Gennaro ci segue sempre ci segue dal Belgio anche lui è un cantautore lo salutiamo e vi ricordiamo che potete interagire con noi chiaramente attraverso la nostra pagina Facebook ehm se volete appunto commentare o fare delle domande in diretta e potete seguirci contemporaneamente anche su GS Produzioni Video e su 01 TV e andiamo adesso a sentire il il lancio di di questo di questo primo eh volume oh è bello pezzo che non ne vediamo sono esattamente queste le parole che sentivo dire a mio papà ogni volta che mi portava a passeggio sul lungomare di Torre e incontrava qualche suo vecchio amico e lì partiva la giostra dei ricordi uno scambio talmente vivido che mi sembrava quasi di vedere le cose che si raccontavano tra le risate e le paure l'evoluzione dei tabù si esatto come il gioco da tavolo ah no vero con le tabù con due o vabbè dicevo pazzesco ah come un ricordo resti così vivo dopo anni come quando in estate danno un vecchio film al cinema all'aperto e tu te lo vai a rivedere pure se ormai lo sai in memoria ma almeno stavolta i pop corn comprati lì la sul posto che poi se mentre c'è il film scissacchetto che ti sei portato da casa si sente fa scruscio e pare male e questo appunto era il video lancio del primo volume appunto come dicevi uscito proprio ieri sì 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 questa diciamo da questa presentazione si va a comprendere bene quello che poi è il mood musicale quello che è un pochettino la la colorazione il l'impatto anche dal punto di vista mentale no che sia con con l'ascolto di questi brani perché comunque si parla solito di nostalgie del passato di però nello stesso tempo di caratterizzata da questa forte chiave che strizza l'occhio diciamo al pop alla in particolar modo al sit pop elettro pop diciamo no è molto più sperimentale rispetto a quello che ho fatto finora per certi versi considerando che lo sto facendo io che comunque finora mi ero approcciato a tutt'altro e dicevi appunto ci sono i ricordi ci sono i ricordi dell'infanzia però appunto sempre diciamo ci sono dei flashback e poi dei salti indietro e naturalmente sempre restando fermi sul presente sì sì diciamo che comunque mi è piaciuto tanto insieme comunque al mio team che saluto sempre saluto mio fratello e remos saluto valentina redi che oltre a essere la mia ragazza cura anche tutto quello che è l'aspetto visual quindi dei video delle copertine sono state fatte da lei e abbiamo messo su questo ebbè il mio team è composto anche da tante altre persone diciamoli tutti sì saluto e saluto richi marano che il mio fonico e tecnico registro da lui e nello stesso tempo diciamo quando siamo fuori mi accompagna sempre come fonico da palco poi ci sono valerio brunetto e angelo musumeci che comunque hanno partecipato nella anche loro diciamo in questo in progetto li vedremo li vedremo più avanti hanno messo le mani diciamo in in delle delle tracce che sentiremo più avanti e comunque sì in questo in questo trailer comunque mi è piaciuto anche giocare tanto con il discorso dei titoli hanno iniziato ad annunciare i titoli in maniera fictizia nascondendo l'interno di questo racconto no perché inizia dicendo e poi e questo è il primo titolo poi parlo di tabù parlo anche di pop corn quindi mi è piaciuto questo espediente narrativo annunciare la tracklist prima della tracklist e quindi comunque si tramite questi rifugi questi ricordi di infanzia nello stesso tempo queste sonorità queste immagini sempre più popolari un po vintage diciamo ho voluto comunicare quello che è un po il mio il mio stato d'animo anche se poi comunque le canzoni appunto parlano sia di nostalgia sia di malingonia ma nello stesso tempo di energia e anche alcune alcune tematiche abbastanza esistenziale più conscio che ho voluto trattare seppure in chiave appunto più elettropop parliamo anche del ecco del del ruolo appunto di r most sì r most è fondamentale tanto quanto me sono felice per la prima volta di averlo inserito anche lui in copertina perché diciamo ecco non è non è mai scontata questa cosa possiamo scorgere lì in atto al solito ha prodotto tutte le tracce di questo progetto ha seguito questo progetto con me dal punto di vista musicale eh eh sì diciamo che comunque specialmente in queste in questa nuove in queste triplette che usciranno ha avuto modo di dare sfogo ad una maturità che anche lui sta piano piano raggiungendo proprio sempre di più e lo si sente nella maturità appunto del suono ma come tutti diciamo sto notando una crescita generale di cui non posso che essere fiero c'è un altro saluto da parte di giuseppe faro che scrive appunto un saluto ovunque sia il grande mostaccio ah sì certo è doveroso sempre diciamo che comunque se noi eh abbiamo siamo cresciuti ecco con la musica in casa grazie al fatto che ce l'abbiamo avuta sin da piccoli con papà che anche quando anche andando se ne comunque ha lasciato un grande una grande eredità di DNA ecco e questo non fa non facciamo spero che come gli rendiamo onore magari ogni giorno ogni uscita ehm dicevi appunto che delle tre tracce o era già ehm era già uscita un'anticipazione sì sì adesso andiamo a vedere il il video appunto eh di oh con piacere oh è un bello pezzo che non viviremo assediti assaggi e stucci il lemon ci ne esce un pozzo come non fa nocca la verità oh è sì mi sbaglio poi sto pezzo spacca mi leva tu vado giù mi da scammacca mi leva di sto schifo che ho cercato la verità ma appi stasera lasso stare no mi voglia rizzitare no stasera no ne ricchiamo tutti i tuoi compari c'è una bella festa ma rifò ci è buono oh così non ci vedi ti ne escio solo ma passo meglio poco ma sicuro ma solo sai che non non ci arresto mai non ci arresto mai non fai un dai oh e affido le mie lacrime indifese a una lampada cinese alcune sono scese alcune sono sceme sapessi quante scene scolano dagli occhi miei oh e ballavamo insieme un pezzo indi con i passi un po' più spinti ci guardavamo non c'è un po' più spinti una mano dei capimi ma il cielo senza stiti sembra un finso senza re forza che non ci ti passa più chiari stiamo vestiti ci ho tempo di mangiare oh ci pensi che eravamo centomila cos'è successo a quella comitiva adesso ormai non ci vediamo mai e mi ritrovo ogni tanto a pensare che sto seduto sopra queste scale con una birra e cristalli di sale mi chiedo che cosa ti ho fatto di male cose che infine non posso sistemare cose che sanno di lacrime a mare ma quando vuoi ne possiamo parlare stessa spiaggia stesso mare mare un raggio che scavalca l'orizzonte trapassa il giorno che comincerà ti lascio una carezza sulla fronte poi dice svegliati che ti lascia la rucca oh e affido le mie lacrime indifese a una lampada cinese alcune sono scese alcune sono sceme sapessi quante scene scolano dagli occhi miei oh e parlavamo insieme un pezzo indie con i passi un po' più smitti ci guardavamo zitti una mano un lega bimbo ma il cielo senza stiti sembra un viso senza nevi che svegliamo alesco il giorno che si può svegliare di faulare assicurare 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 Grazie a tutti. E questo era appunto il video di OU. OU è un monosillabo che noi siciliani utilizziamo spesso, è particolarmente espressivo, quantomeno per noi. Sì, sì. Con OU tu esorti, rimproveri, saluti, fai tante cose. Poi chi usa AU, chi usa OU, diciamo che però comunque è un monosillabo polivalente. E in questo caso l'ho voluto utilizzare proprio come titolo, come carattere della mia canzone, proprio perché comunque non c'era nulla che potesse esprimere al meglio questi versi. Perché non se dice OU, perché questo? Cosa hanno in comune questi tre brani? Questi brani, ecco, dal momento in cui sono stati, abbiamo fatto sì che componessero questo primo soft drink che ho estratto dal megaprogetto. Hanno in comune delle sonorità sicuramente molto pop, sicuramente molto elettroniche e nello stesso tempo comunque una orecchiabilità, fortunatamente. Giusto perché comunque sono sempre contento quando ultimo e pubblico una traccia e perché comunque sono soddisfatto dell'orecchiabilità e del primo impatto di quello che riguarda proprio l'ascolto, no? Cioè il ritornello che ti resta in testa, però senza rinunciare a un contenuto di fondo e a un livello di lettura che può essere esteso in profondità. E quindi hanno questo in comune, un soft drink apparentemente soft, sicuramente, questa uscita di pop cola, sia per quanto riguarda OU che per quanto riguarda pop corn e tabù. Apparentemente disimpegnate, mettiamola così. Invece per quanto riguarda il testo, c'è una continuità oppure ognuna a sé? Beh, essendo che comunque tutte queste situazioni prendono sfondo da riferimenti autobiografici, la continuità è sempre, diciamo, su larga scala, d'ambio raggio, no? Però diciamo che, ecco, non c'è una narrativa che collega le tre tracce, questo sicuramente. E questo trittico poi invece con i prossimi, le prossime uscite, hanno un filo di continuità oppure no? Le prossime uscite avranno un gusto, proprio un sapore, anche dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista proprio del mood, diciamo, vedremo un altro Ture Most. Ecco, diciamo che, come dico sempre, una delle cose che mi vengono dette quando si ascoltano i miei lavori è, per me è un po' croce e delizia, per me è più delizia, però quando devi andarti a presentare può essere un po' una croce inizialmente il fatto di poter affrontare diversi sottogeneri, no? Di quello che faccio, quindi evitare di mettere tracce nello stesso disco, comunque potevano essere un attimino in contrasto fra di loro, che si acchiappano, ecco, e metterle invece separarle. Quindi ecco, che mentre in Libra magari proponevo due versioni di me, qui addirittura se ne può apprezzare una terza, mettiamola così. Adesso andiamo a sentire un frammento di Popcorn. Non è vero me, ho visto scoppiare 20.000 Popcorn, non so, ne ho visto scoppiare un bel po', 20.000 nuvole, non ricordo più qual è quello che è, se gli altri meno, non è vero me. Sarà sto caro che mi fa scoppiare, sarà che Dio ci ha messo troppo sale, ognuno sceglie come diventare, e anche se sembra uguale non sarà mai uguale. Se litighiamo ci diamo una schiena, una voragine matrimoniale, lo stesso letto dove quando è sera, siamo lo stesso spirito animale. Ho fatto i conti con l'altro me stesso, ho fatto i conti ma il conto l'ho perso, perché alla fine so che sono questo, un vavalaggio con la perla dentro. E anche se in fondo trovi sempre chi non scoppia, perché vuole stare buono e spera che non se lo mangino, io non le invidio perché sai che un mondo senza un'esplosione a conti fatti dai nemmeno me lo immagino. Questo appunto è Popcorn, che è il brano che è uscito appunto ieri. Qual è la caratteristica principale di questo brano? La caratteristica principale, se vogliamo, si può, se si accorge subito di questo, dal punto di vista musicale, sicuramente quello che è l'utilizzo dei synth, qualcosa che può ricollegare un po' al vintage, alla synthwave, diciamo che va a riprendere un po' l'electropop degli anni, dei tardi anni 80, e quindi un po' quell'atmosfera, per dirla ai termini di oggi, un po' alla Stranger Things, no? E quindi diciamo questa cosa, questa è una cosa che volevo fare da tanto tempo, cantare su un beat che avesse questa atmosfera un po' vintage, però molto elettronica. Dal punto di vista del testo possiamo dire che è abbastanza martellante, no? Un ritornello martellante, un ritornello quasi speculare tra la prima e la seconda parte di ritornello. Diciamo che comunque, senza voler spiegare la canzone, perché poi ognuno ci vede quello che ci vuole vedere, mi è venuta l'idea di scriverla mentre stavo facendo i popcorn, e la macchinetta dei popcorn è partita in fa, e quindi parte questo, e io mi è venuto in destra, ho visto scoppiare. E quindi diciamo ecco che è nata in maniera proprio molto genuina, ed è qui tutto un discorsone esistenziale sul fatto che i popcorn sembrano tutti uguali, ma in realtà non lo sono. E sul fatto che ognuno, diciamo, poi magari scoppia in modo diverso, e che non scoppiare è per caso, in qualche modo. E tu infatti nel lancio hai chiesto peraltro ai tuoi fan di individuare una frase all'interno del testo, perché effettivamente ogni verso può in qualche modo, cioè ognuno può trovare il proprio verso in questo testo. Sì, sì, di questo sono molto contento, perché comunque ognuno può sempre rivedersi in quello che provo a esprimere, ecco questa è la via principale, finché sarà così sarà sempre bello trasmettere e pubblicare la mia musica. Parlavi di ritornello martellante e l'abbiamo sentito anche girare sui social in particolare, tu utilizzi molto, soprattutto Instagram, e chiedi anche ai tuoi follower di condividere, di in qualche modo li rendi parte comunque dei progetti anche protagonisti. E quanto secondo te oggi questi canali sono importanti per arrivare? Allora, sì, è vero che utilizzo molto Instagram, ieri è stata la mia casa virtuale, perché comunque il giorno del lancio è sempre così. Non lo chiedo, e questa è la cosa bella, che comunque sono sempre i miei ascoltatori a voler, si rendono conto ecco che il mio, che magari il mio messaggio deve andare, no? No, si sentono che in quel momento il loro stato d'animo si sposa con il mio messaggio. A me di solito ecco non vado matto per il dire di condividere le mie cose, perché comunque penso che è una cosa che deve nascere spontaneamente. Tant'è che comunque in generale ecco anche io sono il primo che condivide la roba ecco anche non mia, quando mi colpisce molto qualcosa, quando ci trovo la sorpresa ecco. Poi magari appunto la condivisione è sempre simbolo di apprezzamento e appunto del fatto che magari stai facendo la storia mentre stai facendo qualcosa che ricorda un verso della mia canzone e fai la storia Instagram. E sono dei mezzi molto importanti, però io ho capito da quando c'era la coesistenza sia di questi mezzi e nello stesso tempo dei mezzi diciamo dei live, dal vivo, insieme funzionano molto bene. Ma con il solo social non è che si può fare poi molto eh, perché comunque è vero che sono dei mezzi in più che una volta non c'erano, ma come ce l'ho io, ce l'hanno tante altre persone, tanti altri artisti, tante altre persone che fanno musica. Non sempre magari ecco, diciamo che è la tendenza a utilizzarli oggi come se fossero una via preferenziata, in realtà non è esattamente così, ecco perché comunque è un mare grande Instagram, quindi emergere da qui è molto difficile. Parliamo del feat con Tenshi. Tenshi è un amico prima di tutto, un ragazzo che ho conosciuto in occasione del, appunto a proposito di live, che sono un po' il sale, no, della musica. Eh, lo ho coinvolto nell'estate 2019 nel mio concertone, il quattro Ertilapia, ad aprirlo era, ho visto che aveva fatto un pezzo da poco e l'ho fatto cantare. Eh, sono rimasto soddisfatto perché ho fatto una grande esibizione allora e da lì siamo diventati molto amici, perché comunque ci, ci facciamo, ci ascoltiamo spesso le nostre deprime, e poi io sono abbastanza più grande di lui, quindi magari lo, eh, lo sprono, lo consiglio, ma nello stesso tempo anche lui dà grande, eh, è un ottimo banco di prova quando gli faccio sentire qualcosa, dico Simone funziona secondo te? E lui puntualmente, diciamo, è colpito, ecco, magari ci consigliamo spesso fra di noi. Eh, sì, è nato questo pezzo, comunque lui è stato, come dicevo, ogni soft drink avrà il suo ospite, eh, e quindi lui è il primo. Eh, di questi ospiti, eh, quando l'ho scelto proprio, ho voluto fare una scommessa perché io lo sapevo che lui è bravo e volevo farlo sapere adesso anche al mio pubblico. Eh, in un attimo ha, ha scritto una gran strofa e nello stesso tempo proprio anche da puntista musicale ha dato un ottimo contributo a questa canzone e da lì proprio anche la sua impostazione artistica ha avuto una grande evoluzione, secondo me, perché da lì tutti i provini che mi manda sono sempre uno meglio dell'altro. Quindi sono fiero, tanto lui ha dato a me e tanto io sono felice di aver dato a lui in questo, in questo esperimento che sicuramente avrà un seguito. Eh, eh, te lo chiedevo ieri nella diretta Instagram che hai fatto con la collega Sandy Sciuto, ehm, c'è in programma un fit con un'artista, una, una donna? Eh, a breve no, a breve non ce ne sono in programma perché comunque eh ho come ti ho risposto ieri però mi è piaciuto molto questo questo attimo di di questa discussione ecco perché comunque secondo me ho ho ricevuto tanti apprezzamenti della discussione di ieri per il discorso che abbiamo fatto ieri quindi hai fornito uno spunto eh ottimo eh al momento non sono previsti eh e quando sarà eh voglio che eh voglio che che sia innanzitutto diciamo ecco nascono sempre diciamo dall'amicizia no? Quindi magari eh quando mi troverò a parlare con magari ecco gli amici che ho coinvolto qui li vedo più spesso ci parlo più spesso ma quando magari capiterà che porterò un'artista donna eh mi piacerà appunto non vedo l'ora di vedere il come lei si porrà nell'astronica anziché nel ritornello perché di solito come dicevo c'è questa tendenza che secondo me ormai è un po' invecchiata di prendere la bella voce femminile e farle fare il ritornello no? Io invece no io vorrei che venisse portato proprio l'essenza cioè non ridurre a un ritornello ma perché comunque sono poi tante volte il mio forte no? Mi piace tanto fare i ritornelli ma devo portare un un tocco un tocco bello sostanzioso e non puramente estetico e portare proprio l'essenza femminile il mio cano questo è quello che mi piacerebbe fare. Ritroveremo nei prossimi lanci nelle prossime uscite magari ancora eh quelle quelle leggende quei popolari cui ci hai abituato con i precedenti album? Questa è una bella domanda e la risposta è assolutamente sì perché comunque quello che faccio lo definisco un po' anche eh eredità di cantastorie in qualche modo no? È però in versione magari moderna e quindi sicuramente ci saranno nuove leggende. E adesso andiamo eh invece a sentire un altro frammento del dell'altra dell'altro brano Tabù. Abbiamo litigato ma senza motivo fuori pioveva ed io giocavo a fare il tivo ti lascio un'altra dedica sul finestrino ma tu non sai più leggere quello che scrivo. Mi dici che non sono quello di una volta e camifici liscio come i tuoi capiti ti ho fatto esasperare e mi indichi la porta. Pecchissimo ma tu liscio quando darò spicchi mi fermano gli amici sanno che è successo ti dico che sto bene dai tutto sommato. Hai rotto le notifiche e l'ultimo accesso scommetto che per me che hai fatto quello stato ma penso che anche tu l'avrai capito che che puoi cambiare taglio di capelli tanto non ci rivedremo più questo era Tabù e diciamo ha un tono diciamo un po' più malinconico sì diciamo che è malinconico ma non troppo diciamo è un saper reagire un po' alla siciliana con quel segno di dici si sei rassegnato però te ne fai una ragione in maniera ironica diciamo ecco che è un po' la reazione ironica rassegnata pacificamente a un fatto autoinflitto io la vedo così quindi sono contento del risultato prima di tutto perché dal punto di vista musicale Tabù è il primo pezzo che ho composto io proprio la musica no? E quindi di questo ne sono proprio molto orgoglioso e comunque qualcosa di molto figlio della della canzone italiana ho studiato molta canzone italiana nella scorsa lockdown infatti credo proprio oggi faccio un anno che è stata scritta Tabù e poi la bassa è stata rivoluzionata questo anniversario sì credo sia roba tipo di oggi sì credo perché proprio mi ricordo che era sul a metà quarantena sulla fine della prima del primo lockdown mi ricordo che ha preso la tastiera a distanza con con Valerio Brunetto facevamo lui mi ha fatto spiegato cinque minuti di come funzionano gli accordi e poi un paio di settimane dopo sono spuntato con Tabù no? E quindi sono molto fiero di questa cosa e poi per quello che riguarda il testo sicuramente è malenconico però tra i feedback che ho avuto dai miei ascoltatori è stato quello di aver affrontato con delicatezza anche il punto di vista femminile no? cioè tipo che libera un po' la alla fine di una relazione è sempre brutta però fa fa cogliere un pochettino il il lato diciamo della liberazione no? La freschezza quindi diciamo un attimino questa di questo sono molto contento no? perché voglio cerco di essere sempre più delicato possibile quando affronto qualunque argomento prima hai nominato appunto Valentina Redi Valentina Redi ha curato quella che è la copertina del dell'album dell'uscita e del volume e poi anche il video lancio e lo shooting di cui abbiamo visto appunto qualche qualche scatto sì 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 ha fatto un ottimo lavoro questa volta proprio rispetto al passato ecco diciamo che comunque io ho sempre grandi eh manie di controllo ehm è una cosa magari buona però nello stesso tempo eh può portare con sé tanto stress prima di tutto per me secondariamente per chi comunque magari deve creare no? e quindi io non ho voluto porre stavolta limiti ai miei artisti e per i miei artisti intendo Roberto, intendo Valentina, intendo tutti eh anche gli altri ragazzi comunque eh che hanno messo proprio la propria arte anche i musicisti sia per quanto riguarda i musicisti Valerio e Angelo sia per quanto riguarda Riccardo perché anche Mix & Master che è un qualcosa di molto tecnico tante volte può sfociare nell'arte si è fatta seguendo un eh dando un risultato che in qualche modo scuote ecco quindi non ho voluto vincolare nessuno eh e questo è il risultato è uscito fuori del lavoro non che prima lo facessi però magari prima era un pochettino più udioso stavolta invece proprio ho voluto dare libero sfogo alla loro creatività eh tant'è che appunto i pezzi che sono usciti eh le opere che sono uscite mi colpiscono molto positivamente ehm in chiusura ehm possiamo dare puoi dare qualche puoi darci qualche anticipazione di quelle che poi saranno i prossimi volumi beh sì allora sicuramente saranno altri gusti eh altre altri gusti musicali altre altri sapori più che altri gusti e quindi eh se questo è un po' il frutto dell'evoluzione eh della dell'orecchiabilità dell'internazionalità che ho provato a dare eh con Libra che magari Libra ecco appunto strizzava un po' l'occhio diciamo alla al ritornello della radio nazionale no basta pensare a souvenir oppure anche lo stesso fit del di Libra era molto nazionale qui eh continuo questo esperimento nel in pop call e quindi diciamo porto avanti qualcosa iniziato con 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 Libra no quella ricetta di di un suono che resta in testa se diciamo che pop call è un po' questa evoluzione di Libra sicuramente la prossima uscita eh sarà si potrebbe definire in qualche modo in qualche modo un nuovo nostalgia ecco un un un'evoluzione di nostalgia cosa che si può apprezzare diciamo anche nella terza parte ecco sicuramente quindi ho cercato di curare tutti gli aspetti prendere il meglio e lasciare a casa il peggio perché è sempre così sono sempre molto autocritico se è una cosa magari poi riconosco non mi pendo mai dei miei lavori di quello che faccio uscire ma se è una cosa riconosco che è meglio andare da una parte piuttosto che da un'altra eh giusto così ed è quello che ho voluto fare con questi lavori. Andiamo a leggere un'ultima domanda che ti rivolge Antonio Reciti eh ciao Rita posso fare una domanda e se non ci fosse stato il lockdown? Eh eh è una bellissima domanda perché comunque è quello che mi chiedo io sempre come dicevo prima l'impatto live è mancato avevamo preso tante serate eravamo stati selezionati anche per quanto riguarda un un grosso contest a Catania eh più altre serate che stavamo iniziando ecco un attimino a espanderci però questo non vuole essere mai una scusa è soltanto rimandato e avremo più più traccia e scaletta per i prossimi concerti a Catania e in Sicilia insomma dove possiamo arrivare non ci vogliamo correre lì. Diciamo intanto dove ti possiamo ascoltare? Sì allora sicuramente mi potete ascoltare su Spotify eh su Tidal su Apple Music Deezer insomma tutti i principali store Amazon eh Alexa insomma con chi parlate parlate riuscite a trovare eh riuscite a trovare questa questa uscita eh su YouTube è possibile anche se diciamo l'unico video di questo nuovo progetto al momento è OU però ne sono previsti in programma ovviamente però se andate nel mio canale trovate la playlist con tutti eh i nella sezione playlist trovate appunto la playlist Bob Cola e potete ascoltarli anche da YouTube. Bene Ture noi eh come sempre ti ti ringraziamo ti facciamo eh il nostro in bocca al lupo salutiamo tutto quanto il tuo staff tutti colori quali lavorano eh con te e complimenti ancora per per questo nuovo progetto. Grazie. Grazie. Grazie a te. Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguiti. Ciao ciao. A prossimo. Ciao. Buona serata. E adesso stacchetto e poi seconda parte del nostro programma. Cambiamo completamente argomento andiamo adesso a Giarra ci colleghiamo con il sindaco Angelo Danna. Buonasera a tutti. Grazie di essere con noi. Abbastanza ci difendiamo. Lei come sta? Bene bene ho ascoltato anche con interesse l'intervista con Ture Most di Pocanzi lo saluto eh ho avuto il piacere di incontrarlo anche di sentirlo proprio a Giarra e piazzacarmi l'anno scorso e e quindi gli faccio i complimenti come è giusto che sia un artista che si mette in discussione che ha sempre voglia di migliorarsi e che gli auguro appunto possa fare tanta tanta strada eh e trovare quel successo che è anche motivo di realizzazione. Esattamente sindaco ehm andiamo ci colleghiamo anche con Pietro Aci presidente AMBA Confesercenti Sicilia Orientale. Buonasera. Non lo sentiamo. Abbiamo qualche problema problemino d'audio. Ok. Mentre ehm Pietro Aci appunto risolve il problema ehm oggi eh parliamo di un'altra questione che da un po' di tempo eh da qualche settimana eh tiene Banco a Giarra che è appunto eh lo spostamento della sede del mercato settimanale del mercato del eh del giovedì. ehm prima di eh parlare appunto col sindaco e con Pietro Aci andiamo a vedere un servizio. Questo poveriggio si è tenuta a Giarra una riunione tra i rappresentanti degli operatori del mercato del giovedì e le autorità cittadine per discutere circa la nuova sede dello stesso individuata precedentemente in via Sada. Quest'ultima non è stata accettata dagli operatori che da due settimane non allestiscono i propri stand. Il sindaco di Giarra, Angelo Danna, ha giustificato tale scelta con la necessità di rendere transitabile sette giorni su sette la via Federico II di Sbevia, precedentemente sede del mercato cittadino, poiché è considerata una delle vie di fuga più importanti in situazioni di emergenza, come ad esempio la recente caduta di cenere e lapilli sulla città. Sentiamo brevemente cosa hanno dichiarato le parti durante l'incontro di oggi. Noi dalle prime battute avevamo chiesto un compromesso all'amministrazione che si era avuto ad onore del vero un tavolo tecnico insieme alla signora Liseo, all'assessore Aramo Alfio Privetera e al sindaco Angelo Danna. Dal primo momento io avevo detto che c'erano dei malumori per il sito scelto di via Sada, però il sindaco mi ha detto, lo fai visionare agli operatori e vedere cosa ne pensano? E noi questo sovraluogo l'abbiamo fatto, naturalmente sono emersi subito i malumori da parte degli operatori, per cui la scelta non era idonea per i loro bacini d'utente, dicendo che se sarebbe andato a un ulteriore calo delle vendite e naturalmente così allo scomparire completamente nel mercato. Loro hanno scelto la via dello sciopero ad oltranza, che noi abbiamo comunicato, cioè uno sciopero molto pacifico, hanno fatto valere le proprie ragioni e le hanno comunicato al sindaco, non andando più a montare nel sito scelto provvisoriamente da parte dell'amministrazione. Ci sono stati ulteriori confronti, poi negli ultimi giorni ci siamo sentiti in diversi momenti telefonicamente anche con il sindaco Danna e si è scelto in modo comune di trovare un sito che riesca ad appagare gli appetiti commerciali da parte degli operatori, ma nello stesso tempo non crei dei traumi all'interno della comunità giarese. Abbiamo trovato la massima disponibilità da parte dell'amministrazione, ma devo dire anche da parte del Consiglio Comunale, dato che ha messo all'ordine del giorno pure un punto straordinario in merito al mercato di Giare. Perciò disponibilità è disponibilità da parte sia del sindacato che da parte dell'amministrazione. Questo è quando, ora al momento, stiamo andando a visionare dei nuovi luoghi e dei nuovi siti. Oggi siamo qui per cercare di trovare una soluzione condivisa alla questione del mercato del giovedì, che è un mercato storico di questo territorio e che come amministrazione vogliamo assolutamente con gli operatori rilanciare. L'obiettivo quindi non è trovare una sistemazione qualsiasi, ma cercare di trovare un luogo che possa in prospettiva generare nuove opportunità per gli operatori commerciali e offrire, come dicevo prima, un servizio sempre più attento ai bisogni della cittadinanza. Chiaramente quello che non poteva rimanere era il mercato in via Federico di Svevi. Era scomodo per gli anziani soprattutto, ma era prevalentemente una via di fuga, una via di esodo in caso di calamità. Le recenti situazioni emergenziali derivate dalla caduta abbondante di cenere hanno dimostrato che quella strada deve restare sempre libera per ogni necessità. Tra l'altro è una via dove c'è una scuola nella parte più bassa, c'è un'area dove i cittadini in caso di necessità devono confluire. Via Sata era una proposta che noi da subito abbiamo immaginato potesse essere temporanea, proprio per evitare che gli operatori interrompessero la loro attività. Ma hanno ritenuto, ognuno ovviamente rispetto a questa posizione, di non poter accogliere neanche temporaneamente. Oggi siamo qui con lo spirito di collaborazione di chi, ripeto, si mette innanzitutto al centro quella che è la risposta ai bisogni dei cittadini e degli operatori commerciali. Andremo a fare dei sopralluoghi, vedremo se qualche soluzione possa andare bene, potrebbe anche in questo caso trattarsi di una soluzione transitoria in attesa di poter fare qualcosa di più definitivo. Una cosa è certa, di questo mercato in via Federico Di Sveve, che è lì da penso almeno 20 anni e forse più, si parla da decenni e decenni. Fiumi di riunioni, di commissioni, di consigli, di lavori sono stati fatti ma non si riusciva a scardinare questo principio che è la sicurezza di tutti, va prima delle esigenze particolari. Noi questo passo lo abbiamo fatto, però adesso ne vogliamo fare un altro insieme agli operatori commerciali, ridare un nuovo mercato, una nuova area per rilanciare il mercato del giovedì. Allora abbiamo visto quello che è stato poi un po' il risultato dell'incontro proprio di oggi, di questo pomeriggio. Intanto vediamo se sentiamo il signor Aci nel frattempo. Continuiamo a non sentire, credo che ha tolto involontariamente l'audio, no. No, continua ad esserci, no, non la sentiamo, non so perché, anche perché la prova è stata fatta, quindi non c'erano problemi. Sarà, magari prova a collegarsi con un altro dispositivo nel frattempo, non so, può provare con un altro dispositivo. Sindaco Danna, appunto nel frattempo commentiamo quindi questo incontro, si è arrivati quindi ad una soluzione comune, lo ricordiamo, per due settimane gli operatori commerciali non si sono presentati al mercato settimanale del giovedì, perché sono stati spostati da via Federico di Svevia in via Sada e gli operatori appunto sostenevano che in via Sada era una via troppo periferica e quindi non consentiva, non consentiva, non consentiva un commercio agevole, neanche il passaggio appunto degli utenti. Ma sì, noi come dicevamo, volevamo innanzitutto riaffermare il principio che la via Federico di Svevia non poteva più essere utilizzata come mercato settimanale. da vent'anni e più, ripeto, era collocato in un'area che già nei piani di protezione civile, già purtroppo ne ha uno molto molto arretrato nel tempo, parliamo della fine degli anni 90, ma già in quella sede si parlava di quella strada come una strada che era una via di fuga e nel tempo ciò è stato confermato. Il giovedì tutta l'area attorno a via Federico di Svevia veniva di fatto ingessata, rischiava di creare degli ingorghi sulla nazionale e nelle aree limitrofe e questo ovviamente non poteva perdurare. Quindi come amministrazione ovviamente avevamo fatto un atto di indirizzo intorno alla metà dell'anno scorso, dove in realtà toccavamo tre temi importanti, una era legata appunto al mercato settimanale e da lì si cominciò a ipotizzare un'area che si cominciò a individuare nella via Sada, c'erano stati dei contatti. Avevamo intanto recuperato, mi permetto di dire, anche lì in quel caso un'area che era abbandonata, via Carlo Sada e una traversa di via Michele Federico Sciacca, era una strada che non aveva illuminazione, nella parte retrostante c'erano delle microdiscariche, devo dire abbiamo proprio recuperato quest'area, una villetta che è alla fine di questa strada, anche qui da vent'anni i residenti ci chiedevano di poter intervenire e siamo riusciti a farlo lo scorso anno, e quindi è una zona che in ogni caso era stata recuperata e sarà sempre più valorizzata. Abbiamo in tal proposito anche delle idee che abbiamo cominciato a ragionare all'interno dell'Aggiunta. Poi le dicevo un altro tema di quell'atto di indirizzo riguarda l'ambulantato, che è un'altra delle materie su cui vorremmo in questi ultimi mesi riuscire a completare un percorso che è partito ovviamente da anni e che abbiamo cercato nel tempo sempre più di approfondire, poi volevamo anche parlare di qualche mercatino rionale, abbiamo qualche idea, pensi un po' Piazza Ungheria Giara e il Vecchio Macello, che è un'area che si presta perfettamente per un piccolo mercatino rionale. Ma tornando a questo del giovedì, abbiamo liberato quella strada, quella via di fuga, quell'area dedicata per la sicurezza della cittadinanza e abbiamo offerto immediatamente, proprio per impedire, per evitare che gli operatori restassero fermi per più tempo, anche perché c'era stata nel frattempo l'emergenza cena, e ne avevamo offerto questa collocazione di via Sata, dicendo da subito che sarebbe stata un'area in qualche modo temporanea, proprio perché l'idea era quella di ragionare insieme ulteriormente con l'organizzazione sindacale e con gli operatori per trovare una nuova sistemazione. La posizione, ripeto, degli operatori, io la posso rispettare, perché ognuno giustamente ha tutte le scelte che ritiene più opportuno, mi permetto di osservare che ovviamente nel momento in cui da una parte si chiede di poter riprendere l'attività lavorativa, fermarsi per più settimane un po' contraddittorio sotto questo profilo. Ma ripeto, questo è un punto da cui siamo partiti, questo ci ha spinti a riconfrontarci, a riprendere questo confronto, e credo che oggi insieme con l'organizzazione sindacale, con il signor Pietro Aci, che spero appunto possa collegarsi anche egli, e insieme a signor Aci, insieme agli operatori commerciali che sono stati con noi presenti, abbiamo fatto questi sopralluoghi. Mi dicono dalla regia, signor Aci, che dovrebbe provare con il computer, se può provare a collegarsi dal computer. Non lo può, ci pare di capire che non lo può fare. Mi dicono dalla regia, non so, di provare a scollegarsi e ricollegarsi nuovamente, facciamo questo tentativo, perché non capiamo il problema. Comunque, come speriamo appunto che aveva il piacere di condividerlo con lui, anche questi ragionamenti, proprio perché insieme, oggi pomeriggio, ero io insieme ai miei assessori, Dario Limura, vice sindaco, e l'assessore Alfio Previdera, che è competente alla delega specifica, c'era appunto il signor Aci, c'erano un gruppo di operatori, e dopo aver ragionato insieme abbiamo fatto dei sopralluoghi. Sopralluoghi su un'area via Campania, è una strada vicina alla zona del Corso Lombardia, era, devo dire la verità, qualcosa in cui in passato avevo anch'io guardato con una certa attenzione, ma ritenevo fosse troppo piccola in termini dimensionali. Però in realtà partendo, proprio andando sui luoghi, anche il signor Acio aveva avuto da un concittadino, da un nostro concittadino, aveva avuto una segnalazione di visionare questa strada, e devo dire oggi, guardando un po' l'ubicazione, ho tenuto conto ovviamente che alle estremità delle due strade, una è collegata a Corso Europa, l'altra è diciamo con Via Capuana, che ha due passi dal Corso Lombardia, abbiamo visto che proprio rispettando un po' quelli che sono i passi perdonali, i passi carai che sono posti all'inizio e alla fine delle due strade, poi la strada si presenta priva di abitazione ed è una strada abbastanza lunga, per cui considerato gli attuali operatori presenti al mercato del giovedì, al mercato del giovedì appunto in qualche modo fatte le opportune verifiche tecniche, perché chiaramente abbiamo necessità di verificare sia sul piano della viabilità, sia sul piano della fattibilità tecnica questa scelta, potrebbe essere la prima sede, una prima sede in cui gli operatori a breve potrebbero andare per il nostro mercato del giovedì. Ma insieme la cosa più importante, quindi questa prima scelta dovrebbe essere temporanea, noi immaginiamo due o tre mesi, è un modo anche per qualificare il mercato, perché condividevamo con gli operatori e con l'organizzazione sindacale che bisogna in qualche modo far sì che gli operatori che rimangono possono in qualche modo ragionare in una logica di rilancio, quindi rimanere quelli che veramente sono motivati a portare merce che sia sempre più appetibile alla cittadinanza, per riconquistare quindi quella centralità che ha avuto nel tempo questo mercato del giovedì. chiaramente dopo questo periodo, tra l'altro una cosa che è importante sottolineare, vorremmo, abbiamo condiviso anche con l'organizzazione sindacale Confesercenti che era presente insieme agli operatori, abbiamo condiviso la necessità che proprio si torna a una logica di pieno rispetto della legalità. La legalità è un tema che ci ha visti fortemente entrambi orientati e convinti, tant'è che chiederemo anche agli operatori di rientrare su alcune, su arretrati di spettanze che devono essere pagate come tassi comunali di occupazione del suolo pubblico e quant'altro, attraverso un confronto con gli uffici si farà una adeguata lunga rateizzazione agli operatori perché anche sotto questo profilo chi vuole venire al mercato di Giarra possa insieme a noi condividere questo percorso di rispetto delle regole e di rispetto della legalità. Dopo questi due o tre mesi l'idea potrebbe essere quella di andare a spostarci nel parcheggio della tensostruttura, del palaghiaccio, che è un'area, come sapete, recintata, abbiamo visionato anche quest'area, ovviamente ci saranno sicuramente delle, come dire, ne parleremo col concessionario, finora c'è stato solo un approccio, diciamo, di tipo informale e potrebbe essere un passo successivo che si dovrebbe fare da qui, ripeto, a due, tre, quattro mesi il tempo strettamente necessario perché quel mercato a quel punto veramente riparta in grande stile con il signor Acchi, l'organizzatore sindacale... Vediamo se... Vedo che adesso la... Mi sentite? Ok. Ora la sentiamo. Bene. Va bene. Niente, io chiudo così lascio la parola a Siglarci. La nostra idea è che questo confronto ne seguiranno altri, ci siamo dati in qualche modo, non ovviamente con delle date, ma degli appuntamenti, perché vorremmo veramente qualificare sempre di più il mercato del giovedì. Quindi io sono doppiamente contento dell'incontro di oggi, non solo perché abbiamo trovato una strada condivisa per ripartire e ridare questo servizio alla cittadinanza, lo abbiamo fatto guardando proprio insieme i luoghi e soprattutto vogliamo traguardare e guardare, questo è un forte convincimento mio personale, ma dell'administrazione, ripeto, di tutti oggi gli intervenuti, far sì che questo mercato del giovedì di Giara ridiventi appetibile, vogliamo veramente che diventi uno dei mercati con gli operatori commerciali che trovano più accogliente, più capace di dare una varietà di merci da offrire alla cittadinanza e quindi ritornare piano piano ai fasti che, insomma, ricordiamo, hanno sempre avuto il mercato settimanale di Giara. Dietro Aci. Allora, intanto la regia mi dice se può girare il telefono in orizzontale, ma andiamo a capire se appunto... Ti sentiamo? Sì, di sentirla la sentiamo. Allora, indoccole anche il telefono. Non lo dico, non lo dico, lo lascio così. Va bene, va bene. In qualità appunto di rappresentante degli operatori commerciali, ecco, hanno trovato, insomma, sono state accolte finalmente le esigenze che appunto chiedevano i commercianti. E allora, noi, io dico sempre che il sindacato non è altro che un megafono che amplifica le esigenze dei lavoratori per farli interfacciare con le amministrazioni che di volta in volta, sia a livello comunale o provinciale, vanno a dialogare con loro. E allora, su Giare, noi, già dal primo momento abbiamo avuto diversi tavoli di incontro con il sindaco e non possiamo dire che non ci sono stati sia dei confronti accessi, ma anche dei confronti in cui ci siamo misurati per capire qual era il meglio sia per la comunità di Giare e nello stesso contempo per i lavoratori, gli operatori che andavano a occupare gli stalli del mercato di Giare. Oggi si è avuto un'emancipazione sul tavolo della discussione con il sindaco che è stato bello, è un passaggio che a tanti è sfuggito, il quale nel passaggio si parlava di come poter rilanciare quello che era una volta uno dei mercati più grossi e più appetibili anche delle comunità vicinori e rilanciarlo a piccoli passi, a piccoli step, utilizzando anche delle proprie vetrine sul territorio di Giare. E cosa sono? Vi spiego subito. Siamo andati a visionare diversi siti e vedendo ormai il numero esiguo degli operatori di Giare si è scelto, sempre che i pareri tecnici degli uffici ci diano dei pareri favorevoli, la via, se non mi ricordo male, via Campania. che è nel cuore di Giare, secondo me è nel cuore di Giare. E allora, quello non sarebbe altro che il primo rilancio del mercato, cioè far vedere sia dal punto di vista dell'amministrazione che dal punto di vista degli operatori che si sta avendo un'emancipazione tale dove un mercato si va a fondere con la comunità che lo ospita senza creare traumi, nello stesso contempo, senza essere l'intraccio per la viabilità o quant'altro. E diciamo non è un molto grande come sito, però è un piccolo sito, secondo me potrebbe venire il vero e proprio feore all'occhiello, una bomboniera, perché è situato al centro urbano, può essere raggiunto da qualsiasi via cittadina e nello stesso tempo anche dei pullman, delle state di collegamento vicinale, senza essere di problema per le scuole o quant'altro. Perciò sono con soddisfatto dell'incontro che abbiamo avuto oggi, sinceramente. Mi dica. Bene. In un periodo come questo, appunto, quello della pandemia, sono tante le difficoltà, chiaramente, che gli operatori commerciali stanno incontrando. Sì, è proprio per questo qua noi abbiamo voluto accelerare i tempi, affinché, se tutto va bene, dal prossimo giovedì potremmo far ripartire questo mercato. Per venire incontro proprio a quegli operatori che hanno sofferto di una crisi, sia economica dovuta alla pandemia, ma anche con ginturale. Non già lo dobbiamo scordare che già era da un po' di anni che si era avuto un calo sulle PMI, le piccole e medie imprese locali, e specialmente in quelle che si svolgevano sulle aree pubbliche. Noi abbiamo notato anche che ad indaccare ciò non è stato, proprio il periodo della pandemia ci ha fatto notare una cosa, la distribuzione non sta avvenendo a essere indaccata solo dai grossi centri commerciali come vendavamo, ma anche da piattaforme di vendita diverse. Perciò noi dobbiamo fare emancipare i nostri operatori commerciali e sfruttare un periodo negativo per anche le negatività far diventare positività e far rilanciare il piccolo commercio sulle aree pubbliche. Esattamente, farle diventare appunto delle opportunità. Intanto Alberto Favara ci scrive blocchiamo un'altra zona di giarre, perché bisogna considerare il discorso parcheggi? Risponde il sindaco e rivolta a Mela. Possiamo rispondere entrambi. Intanto la via Campania per sua caratteristica è circondata da alcune arterie di grandi dimensioni. Sono ovviamente molto trafficata, ma io ricordo al signor Favara che nei paraggi, ad esempio, c'è il parco Iungo, parco che nel passato ha ospitato anche grandi manifestazioni, speriamo anche quel parco, presto di poterlo portare a essere pienamente utilizzato, perché quell'area è piena comunque di strade molto ampie e di ampi parcheggi. Quindi io credo che lasciando ben libera il Corso Europa, dall'altra parte il Corso Lombardia, abbiamo la strada alle spalle di appunto Via Capuana, che poi si collega con Via Libertà e le altre aree della città, non dovrebbe assolutamente subire questo tipo di problematiche. Tra l'altro gli operatori, come diceva il signor Aci, sono oggi non tanti, saranno poco più di una trentina, quindi non parliamo di numeri come nel passato particolarmente elevati. E come si diceva poc'anzi, questo vuole essere un momento in cui si qualifica il mercato, si cerca di farlo diventare attrattivo, perché nel momento in cui questo avverrà, appunto ci sarà una fase 2, e chiamiamola così, una fase che appunto vedrà questo confronto di cui prima parlavo con le organizzazioni sindacali e con gli operatori, che servirà proprio ad ampliarlo in una zona che tendenzialmente sarà diversa da quella che oggi stiamo andando a individuare. Diciamo, Via Campania è il modo intanto per ripartire subito, per qualificare il mercato e a quel punto, ritornando a essere già attrattiva per questo commercio di piccole e medie imprese di cui si parlava, poter finalmente poi fare il salto di qualità da qui a tre mesi mediamente, questo è un po' il tempo che noi abbiamo immaginato, ma questo è. Comunque sul tema della viabilità io ritengo che appunto non dovremmo subire il giovedì mattina particolari complicanze. Ci pare però di capire insomma che il signor A ci diceva che anzi questa qua della Via Campania è una soluzione che può essere anzi favorevole per gli operatori a suo avviso. Allora, noi abbiamo parlato di step to step, cioè di un passaggio alla volta e allora questo già stiamo preparando anche un protocollo di intesa con il sindaco Dan dove ci siamo dati delle scadenze non berendorie, ma delle scadenze sono. Cioè questo sito di Via Campania sarebbe per non lasciare a casa gli operatori e farli andare nell'immediato a lavorare. Due mesi, tre mesi, fino a quando non sono già preparati tutti gli incontri amministrativi per poterli poi ospitare in un sito definitivo. Naturalmente l'incontro non finisce qua con l'amministrazione di Giare, ma se ne vanno altre, fin quando avremo poi quel sito che può ospitare in sicurezza sia il mercato di Giare nello stesso contempo gli avventori che lo frequentano. Perciò pertanto la Via Campania a momento, io le dico una cosa, che quando sono arrivato lì con la macchina ho visto che era una strada molto centrale, quasi quasi, ho detto che è possibile, poi vedendo che ai lati, a mei lati della strada non ci sono abitazioni sull'affaccio, non ci sono scuole e quant'altro, e poi c'è sia Corso Europa che Corso Lombardia che si presta bene per la viabilità, di fronte c'è il Parco Iungo con altre vie d'innesto, ho detto sì, va bene, poi gli operatori ormai sono molto esigui, saranno intorno a una quarantina di operatori, pertanto occuperanno solo quel tratto interno di strada, ci sono le strade collaterali che potranno essere adibite per parcheggio, perciò secondo me per i primi mesi, per rilanciare il mercato, per renderlo appetibile e per far capire agli operatori la volontà di non lasciarle a casa è molto avvocata come strada. Quindi insomma siamo felici di sapere che questo incontro, il dialogo con l'amministrazione abbia portato ad una soluzione fattiva che soddisfa tutte e due le parti. Una battuta signorato anche sul discorso che faceva prima il sindaco, sul discorso dell'ambulantato e degli abusivi. Allora, il sindaco si è messo a ridere il pomeriggio perché ho detto noi difendiamo il legale, non l'illegale, perciò noi non difendiamo gli abusivi, noi difendiamo solo i ragazzi che hanno la buona volontà di lavorare nel rispetto delle regole. Naturalmente i periodi di crisi, di pandemia, hanno lasciato degli strascici economici di anni arretrati non pagati di suolo pubblico o quant'altro, noi abbiamo chiesto come sindacato al sindaco di poter creare delle forme di realizzazione tali per poter permettere a tutti di rimettersi in gioco. Ma difenderemo solo chi si vuole rimettere in modo legale in gioco e affrontare le proprie attività lavorative sempre nel rispetto delle regole. Sindaco, in chiusura diciamo anche che domani ci sarà anche un incontro, adesso questo non c'entra appunto con il discorso precedente, ci sarà un incontro importante perché è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Giarre e per celebrare l'anniversario della liberazione d'Italia che ricorre ogni 25 aprile. Sì, è un momento importante, è un momento in cui credo tutti si faccia una fonda riflessione sul valore della libertà e sulla conquista che questa libertà è stata messa frutto anche di sacrifici anche di persone che voglio dire per le vicende storiche hanno perso la propria vita, l'hanno dedicata, l'hanno spesa proprio per affermare questo principio e noi riteniamo giusto dare risalto e lo facciamo pur in un momento di difficoltà grazie all'assessorato, all'assessore Ermelinda Nicotra si presenteranno due libri da parte di familiari di due persone che furono internate proprio per difendere questa libertà e saranno collegate diverse scuole quindi sarà un confronto con il mondo della scuola tramite questi strumenti che permetteranno di raccontare queste due vicende umane di persone del nostro territorio che hanno vissuto in prima persona il dramma del confino e il dramma dell'internato dell'internamento sono orgoglioso libri lui era mio padre e nelle trincee del mare racconti di famiglia rispettivamente di Carmela Russo e Alfredo Sorbello e diciamo che alle 10 sarà possibile seguire questa presentazione tramite anche i canali social del comune di Giarra assolutamente sì sarà così le persone appunto che parteciperanno pochi presenti saranno nella sala degli specchi e questa settimana mi permetta di dire altre due cose importanti non solo oggi questo momento fondamentale per soltare un momento come dire questa difficoltà in una logica di prospettiva come abbiamo detto prima per il commercio del mercato del giovedì domani quest'evento importantissimo in vista del 25 aprile ma questa è stata la settimana in cui a Giarra abbiamo presentato e siamo uno dei comuni che è sede di un organismo che può lavorare sull'esdebitazione voi sapete che la legge oggi pone al centro la persona che incolpevolmente o l'impresa che incolpevolmente si sono trovati in una situazione debitoria ci sono degli strumenti giuridici che possono dare una mano a superare a continuare questa vita a continuare un'impresa a produrre perché la cosa peggiore è appunto quando una famiglia o un'impresa a causa di debiti che involontariamente si è venuta a creare perda la propria dignità perda la possibilità di lavorare ecco Giarra ha rilanciato abbiamo questa settimana rilanciato questo tema è venuto il presidente dell'associazione nazionale dei diritti del debitore sul portale del comune di Giarra è possibile non solo per i giaresi ovviamente ma per tutti coloro che risiedono anche nel circondario diciamo del tribunale di Catania quindi noi in qualche modo immaginiamo tutti quelli che sono legati al distretto di Giarra possono fruire di questa possibilità e domani o dopo domani mi piace anche ricordare che faremo un altro passo importantissimo abbiamo come sapete stipulare un protocollo di intesa per avviare gli orti urbani nella città di Giarra è un progetto che è stato inserito all'interno del distretto sociosanitario quindi il regolamento di base in qualche modo è adottato dai dieci comuni ma noi abbiamo voluto come amministrazione giarrese fortemente voluto questo istituto e domani o sabato mattina poi daremo anche confermento nel senso stipuleremo proprio questo primo protocollo di intesa con un'associazione un'altra storia che si farà carico in un'area che il comune metterà a disposizione di avviare con la popolazione che in questo periodo anche poter avere un'opportunità di coltivare in un piccolo spazio il proprio piccolo orto che poi serva alle esigenze prevalentemente familiare ma non solo ecco è un altro gesto che mi piace ricordare perché la nostra è un'amministrazione che non sempre riesce a comunicare tante cose che fa ma io vi ho raccontato in pochissimo tempo tre cose che in una settimana credo qualificano e danno un senso anche all'impegno che insieme agli assessori a tutti gli uffici comunali che ci collaborano noi cerchiamo di portare avanti quindi grazie a lei per aver ricordato l'appuntamento di domattina ma io ho approfittato anche per dire altre cose importanti belle nell'accezione di cose ecco che hanno una valenza e un impatto importante noi abbiamo realizzato e realizzeremo in questi giorni bene grazie al sindaco di Giarre Angelo Dan grazie a Pietro Aci presidente AMBA Confesercenti della Sicilia orientale grazie a voi grazie a voi una buona serata anche al signor Aci buonasera a voi e buona continuazione e adesso dopo lo stacchetto l'ultima parte del nostro programma rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso è possibile acquistarlo sul sito www.ali-ribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook e adesso ci colleghiamo con un altro ospite che è Luca Arcidiacono l'abbiamo annunciato all'inizio buonasera Luca buonasera felice di ritrovarti grazie intanto di aver accolto il nostro invito e Luca Arcidiacono lo conosciamo già è un l'abbiamo presentato come un giovane regista ma non solo regista anche sceneggiatore in ascesa vive tra la Sicilia e Roma dal 2011 ha conseguito la laurea triennale in cinema e si è formato poi in regia e sceneggiatura cinematografica con diversi corsi workshop e registi come Sergio Rubini l'aiuto regista Ciro Scogna Emilio lo sceneggiatore Marco Pettenello è la scuola Holden di Torino dal 2014 lavora come come casting e aiuto assistente alla regia e per società per diverse società appunto importanti e prima di iniziare a parlare con Luca vediamo appunto uno showreel in cui c'è un po' un riassunto di quelli che sono stati alcuni suoi lavori importanti che sono stati Grazie a tutti. 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 Ti saluto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.